Voglio fare una precisazione, non è solo un problema di legislazione, è anche un problema di etica. Il pubblico è vero, deve imparare forse a fare meglio le gare che fa, non dobbiamo neanche pensare di tornare alla stagione dell'affidamento diretto, quindi le gare restano la via primaria per affidare i lavori e noi dobbiamo essere il pubblico comuni, regioni migliori a fare l'appalto. È anche vero però che da parte delle imprese ci vuole più responsabilità, ci sono tantissime imprese sane e oneste che fanno il loro lavoro tutti i giorni, ce ne sono alcune invece che esagerano nel proporre ricorsi, ci sono dei ricorsi che non hanno senso e che fanno solo perdere tempo. Attenzione perché perdiamo del tempo prezioso per i nostri territori.